Lavoriamo per la scuola in presenza, senza se e senza ma. Il ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, non ha dubbi e lo ripete da tempo. A settembre la scuola dovrà essere in presenza per tutti, tenendo tuttavia presente la lezione avuta dall'uso della didattica a distanza e in generale delle nuove tecnologie. Sono tanti tuttavia a dubitare che il nuovo anno scolastico potrà essere per tutti in presenza, dal momento che andrà mantenuto il distanziamento e le varianti purtroppo continuano a moltiplicarsi e a diffondersi. C'è chi, come l'assessore regionale alla salute dell'Emilia Romagna, Raffaele Donini, chiede che nella gestione dei focolai a scuola si consideri la situazione degli alunni vaccinati. La mia, spiega, è una considerazione molto semplice, quasi banale, tutti siamo contrari alla didattica a distanza, se ci fosse un focolaio in una classe oggi vanno tutti in dad. Io chiedo di considerare anche la popolazione vaccinata. Se dovesse rimanere a scuola, in virtù dello status di vaccinazione, potrebbe diminuire la dad. Questa dovrebbe essere una riflessione apprezzata da chi si è scagliato contro la didattica a distanza, poi l'organizzazione spetta alla scuola.